Cari amici, io sono arrivato, sono arrivato, sono qua seduto a un bar, a un bar di questa bella città, lascio a voi il compito di indovinare quale sia questa città. Qua dietro di me ci sono, devono essere degli artisti, degli artisti che stanno discutendo su Pirandello e su Shakespeare, se è più importante Pirandello o Shakespeare. Il fatto è, stanno discutendo anche sul teatro, quando è nato il teatro e questi carissimi amici, insomma, qua, non lo sanno che io ho fatto un video intitolato Sissifo il teatro, capito? Sissifo il teatro e questo video antichissimo intitolato video e Sissifo il teatro ve lo metterò nell'assunto di questo video. Io sono qua, non vi dico dove sono, lascio a voi i compiti di indovinare, perché ripeto, la loro discussione verte su Pirandello o su Shakespeare, su chi sia più importante. Se scelpire un Pirandello e poi verte su quando è nato il teatro, capito? Loro non lo sanno, non lo sanno che io ho già spiegato quando è nato il teatro. C'è il mio video intitolato Sissifo il teatro. Molti di voi l'avranno già visto, ma per quelli che non l'hanno visto, io il video Sissifo il teatro ve lo metto qua, come link nel riassunto di questo video. Ok, cari amici, io sono arrivato a destinazione, l'aereo non è precipitato e quindi ho perso la grande occasione di finire sulle prime pagine dei giornali, va bene? Ok, cari amici, grazie a tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.